Buongiorno dalla vostra Ilaria. Noi vi diamo un ingrediente e chi indovina la ricetta vince una cena per due dall'azzozzetta. Allora adesso tu e il tuo amico regista vi prenderete una bella vacanza. Vedrai che passa tutto. Tu che cazzo sei? Non farmi del male. È il mio lavoro. Mi chiamano il signor precariato. Sono venuto a rovinarti la vita. Io mi nutro dei sogni delle mie vittime. Questo qui non lo so da dove è entrato. La porta di casa era chiusa, forse dalla finestra, non lo so. Ilaria, guarda all'orizzonte. Cosa vedi? I tuoi 30 anni. Vai via, mi stai rovinando la serata. Ilaria, ma che fai parli da sola? Sono parte della tua vita. Tu non sei parte della mia vita. E io non sarò precaria per sempre come dici tu. In quella radio se la sognano una professionista come te. Pensi di abbattermi? No!